Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, oggi siamo su One Piece Unlimited World Red E mentre si carica tutto, la nostra modalità arena, voglio approfittarne per ringraziarvi ragazzi Ho caricato ieri il video per l'update di canale nel quale andremo a scegliere la nuova serie E la cosa più bella è stata vedere che in pochissimo tempo avete risposto in tantissimi e avete visto in tantissimi il video Quindi in tantissimi per il mio canale ovviamente Quindi la cosa mi ha fatto davvero tanto piacere Inoltre vedere che i miei gusti videoludici sono simili a quelli dei miei iscritti Perché i giochi che ho scelto, tutti mi avete detto che ho scelto dei grandissimi titoli Che mi interessano tutti Quindi mi ha fatto un piacere enorme Perché vuol dire che mi divertirò io a giocarli e vi divertirete voi a vederli Detto questo sto controllando come al solito le sfide da fare, le imprese Devo ancora capire come cacchio faccio ad equipaggiare Sanji più due donne Se posso scegliere solo due personaggi Quindi Sanji più una donna al massimo Ok Jinbei ha attacchi speciali con Ace, schivate con Ace, attacco Call, Rufi e Ace Che cacchio vuol dire? Call Aiuto! Che cosa vuol dire? Call, attacco Call Vabbè facciamo uno di tutti dai, vai No partiamo con questo che mi piace di più, normale Richie... richiesta In modalità arena talvolta può essere richiesta la presenza di un certo personaggio Vinci con il personaggio richiesto per salire di grado molto più del solito E allora... Se Sanji, perfetto, è scomparsa Come l'ho vista è scomparsa Ma posso scegliere tre personaggi? Cioè se io facessi tipo Sanji, Robin e Nami No, no Vedete? Come faccio a fare Sanji più due donne? Cioè... Vabbè Non lo posso fare mai Vabbè Facciamo Ace che dobbiamo fare le schivate e tutto quanto Come... ah, ok Ah già è vero i due boss Che bella la intro di Brooke con sta musichetta epica Sì, buongiorno Nami Come al solito è poco sfruttata la sua bellezza Buongiorno, sì, salve Datemi Ice subito Devo schivare tutto Ok Che figo La roba più figa della vita No Nami Swan Non devi tifare per Nami Swan tu imbecille Devi tifare per Ace Testa di puffo Schiva però No, allora con calma Tiene Oh Brooke Pianino però Ti sto picchiando Nami Pianino però Eh vabbè Guardalo lì con l'infermazione Vabbè Qualcuno mi venga a picchiare Ok, bravissimo Vai 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 Oh mio dio Attenzione abbiamo chiusi nell'angolo tantissimo Va che roba Eh ho preso la scossa però Finchè non mi passa Continuo a starnutire tipo Morite Ah 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 Bello Ace Fatti sotto Namizu Eh vabbè Che cazzo è esploso Continuo a starnutire Aiuto Basta è finito Ok No svegliati Svegliati Porca paletta Usiamo questo Cos'è? Fatto Scappo via Oddio Ace C'è la potenza Vabbè Che novità eh Voi vi direte Che novità In effetti Non è una novità Vai Addio Namizu È stato bello Conoscerti È stato davvero Molto bello Conoscerti Ma no Tutti e due Double shot Oh yeah Bravissimo Con la palla Della vita Sembrava l'onda Sferica di Goku Tipo Viva la Genkidama Perfetto Grado su Ma io ho usato pure Il personaggio Ah ma dovevo proprio vincere Con quel personaggio Forse Sì ma ditemele bene le cose Però Non ditemele a metà Cioè io pensavo Bastasse equipaggiarlo Invece forse dovevo proprio vincere Con Sanji Per avere i punti extra Un contro speciale Attacco call Secondo me è quello tipo doppio L'attacco call Non può essere altra roba Cioè sarà l'attacco combinato Tipo solo che dovevano scrivere Comb magari Che uno capiva meglio Call che cazzo è Collegato sarà Conciò per il puccioso Andiamo E i cartonati della vita Guardate che belli Vai scontro tra chirurghi Fatti sotto Traffì Fatti sotto Le tue abilità sono notevoli Puoi essere tagliato senza problemi Perfette per un dottore Hai ragione Ti interessa finire sotto i ferri? Tony? Tony Tony Ciò No passo Al momento mi sento in perfetta forma Hai paura? Sì Ho paura Ma è normale no? A nessuno piace essere tagliato Bene effetti Guardi la cosa nella prospettiva sbagliata In quanto dottore Dovresti sapere cosa provano i tuoi pazienti Ma anche no grazie No grazie Sto bene così Lo grazie mille Addio Scappo E vabbè E non schiva No non schiva Perché non schiva? Riproviamo Oh mio dio È velocissimo Cioè schivarlo è Oh mio dio Eh sì No muoio Non ce la farò mai ragazzi Non ce la farò Proprio mai Cioè è una scheggia Questo uomo Oh mio dio È una Bisogna prevedere i suoi attacchi Perché se no Non ce la fai a schivarlo Ma che roba Cioè come mi corre il contro Io schivo Ok Fatto Ma va Deve bisogna farlo prima Che lui decida di attaccare Mi seguilo Mi seguilo Vai Cioè però che io debba schivare Prima che lui Si metta ancora in testa Di attaccarmi Questa è una cosa epica Ma muoio tantissimo Non ce la farò mai Eh vabbè Tony Tony Chopper Dobbiamo fare qualcosa Per salvarci la vita Dimmi che ti curi Con quella pastiglia Ok Ne ho un'altra Devo fare la mia parte Cosa farà? Questo mio Altra vita? Ti prego No Che cosa fanno Ste parole Boh Vabbè Andiamola ad attaccare Oddio Lo scontro più difficile Della vita No Cazzarola Schivato Ti è Ti ho schivato il tacto Muori No che Schembers No no Dai però Tie 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 Inseguilo tantissimo Cioppi E scappa Inseguilo e scappa E vabbè Sì ma io non è che posso Prevedere tutto Nella vita Guarda Guarda Oh mio dio Ehi Schembers Tua sorella No non ha preso La schivata Schiva Schiva Scappa 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 Cioppi No Pattume Vorrei fare l'attacco Aspettate che devo vedere Gli attacchi di Ciopper Ok c'è l'attacco per due Voglio fare quello Che col per uno mi curo Col per due gli faccio male E al momento Mi dovrei curare Ok al momento mi curerò Curati Ciopperino Curati Dov'è Qua Vai Scappa però Ok Scappa via Ma dai Ho schivato troppo pesto E Prevedere Gli attacchi Fa questo problema qua Cioè Che io schivo troppo pesto Ma no Il tacto di nuovo Lo schivo Lo schivo Yes Guarda Messi Che potenza inaudita Non è vero mai Non è vero mai Se non avessi le cure Sarei già morta dai secoli Muori Muorilo Con tutto il bene Che ti voglio Muorilo Ok ci ho messo un po' A capire Come attacca Perché bisogna Prevedere gli attacchi È troppo veloce Se schiacciate Cioè non riuscite A schiacciare il cerchio Quando ve lo dice È una cosa impossibile Da fare Bisogna farlo Prima che esca Schiva Chopper Schiva Quando vi corri incontro Voi premete cerchio Basta Inutile Bisogna far così Vai Chopper È il tuo momento Non è vero mai Chopperino Dai che ce la facciamo Però Tu e lo Schembers Muori Yes Al primo colpo Bravo Chopper Bravo Ok È stata Difficile E divertente Allo stesso tempo Perché ho dovuto Pensare tanto A quando schivare È stato bello Un'altra Un'altra Mischia Battaglia O duello Mischia Normale Con Ace E E E E E non ne ho idea Mai nella vita Ace Ace e Rufi Dai così facciamo Gli attacchi concatenati O collegati Come credo si chiamino Vamonos Vamonos Yei Non vedo dietro Però Si io sto Ammazzando gente Ma in teoria Dovrei fare Le schivate Lo so Si vabbè Praticamente Continua a girare E basta Lui Non vedo nulla Va che roba Col salto Cosa fa Uh va che roba Figa Cosa fa Non lo so Fa robe belle Però Ma che bello E non ho fatto L'attacco concatenato Ma sarò imbecille L'ho scelto apposta Ah un altro Perfetto Vai Facciamolo subito Vai Rufy Subito Ok Ahia Eh vabbè Hai fatto il 360 Non vale Questo non vale Non lo potevi fare Eh vabbè Non riesco più a farmi schivate Cioè Viene fuori il cerchio Ma sto già colpendo la gente Quindi muoiono Prima di colpirmi Facciamo un po' di schivate Va Sennò non finiamo mai più Vabbè Basta Mi hai stufato Mi hai stufato tantissimo Beh un po' di schivate Le ho fatte Dai Quanto ci stiamo mettendo Per fare la lega B Ma do La lega A Ci metteremo 6 secoli Non saliamo mai di livello Vai Ancora una partita Dai Da qualche parte Dove Dovremmo fare il duello Per fare una cosa fatta bene Fatemi vedere Ancora un secondo Quelli di Jinbi Ancora 4 schivate Dobbiamo fare Vai facciamo un duello con Ace Oh ma sempre qua dal governo ci mandano Ma che due scatole Ma cambiate un po' mappa Uh Kiji Bello lui Guarda che figo Guarda che bello tutto di ghiaccio Mi ammazzerà tantissimo Già lo so To pigliati un cazzotto volante To te ne lancio un altro Mi sa che faremo così tutto il tempo Sai Oddio dov'è Uh Uh Yei Vai cazzotto volante Quell'attacco è utilissimo Dai Perché lui è lontano Ma io lo colpisco comunque Va che figata quell'attacco Proviamo questa parola Credo che aumenti la difesa Non aumenta la difesa Esce tipo il vento vicino al nostro nome Cosa sarà mai Colpito Madonna non mi ha toccato mai Ma ora me la bullo E adesso mi fa Mi ammazza Con un colpo mi ammazza Yei Yei di nuovo Mi aspettavo una combo Kiji Dai fatti valere Mados Sei il personaggio più epico della vita Per me Fatti valere Dopo Robin e Zoro Ci sei tu Fatti valere Cazzo Fai robe fighe Fai robe fighe Tipo questa Tipo questa Però io ti sciolgo Quindi non è che Eh E' bello Guarda lo sapevo Sai Bello però E' realistico sto gioco Mi piace E' realistico per modo di dire Però si è sciolto E' figo Dai però Non possiamo continuare così Perché tu non vuoi fare le combo Fai un po' di combo Fatti vedere che sei forte Perché sei forte Lo so Fai una combo Dai Fai una combo Cazzo Addio No Ah ok Stavo già spaventando Sì vabbè ragazzi Abbiamo battuto Aokiji Senza prendere neanche un cazzotto Messi sei Basta Overpower Mi faccio i complimenti da sole Quanto squallida è sta cosa Voglio tantissimi punti Ho fatto una cosa epica Dai Dai Dovevate darmene di più No Devo ammettere che Mi aspettavo di più Da Aokiji Sinceramente Forse nel duello Sono depotenziati Bu Comunque ragazzi Anche per oggi Ci fermiamo qua Come sempre Lei che commenti al video Vi ringrazio nuovamente Per l'attenzione che avete dato Alla scelta della nuova serie Un saluto a tutti E buona giornata Alla scelta della nuova serie